Se il servizio era fatto con i piedi. O se invece vi ha dato una mano. Se ci hanno messo l'anima. O ve la siete data a gambe. Ditelo con una faccia. Mettiamoci la faccia. A Forum PA 2009 i cittadini hanno voce. Forum PA, dall'11 al 14 maggio alla Fiera di Roma. www.forumpa.it